Musica Bella ragazzi con i Gamers HD Ben ritornati oggi con un nuovo video Non so se questa sarà una nuova serie Oppure un video solo portato a caso Come vedete saremo in ranked Sarò io da solo, Manu E niente, vediamo il ruolo Io principalmente vado a jungle E secondo me per esempio support Mi manderà sicuramente support Ma siccome voi Avete già visto il jungler tante volte Faremo il contrario, anzi Secondario mid E quindi ci vediamo o nei pick Oppure nella partita Finalmente ha startato il game ragazzi Mamma mia ci ha messo tre quarti d'ora Allora iniziamo subito di Raric Shield Pozioni e Trinket Chiediamo se vogliono invadere Ok Allora Se vogliono invadere Partirò di grab Altrimenti di E Ma non credo proprio Dato che sono tutti in base K Ok Ora ci limiteremo semplicemente A guardare qua Quindi guarderemo qua Loro non hanno un team da invade Però non si sa mai Dovremmo cercare di poccare un po' Ezreal Con la nostra passiva della E Anche karma Non è male Quindi Ogni volta che si avvicinerà A prendere un minion Tac E siccome noi abbiamo il 2 Ora possiamo andare Boom Ok Quello è morto Boom Subito kill E flash di qualcuno Flash Ezreal F And Kill Ezreal Ok Perfetto Arriva Tendo il cannone Boom Ok Ezreal di nuovo qua Ora Uccidiamo karma Eh però Tresampo deve fare W Alto attacco W Perché con un alto attacco L'avrebbe uccisa alla fine No F Karma Adesso aspettiamo un po' Qua E mi sa che dopo Andremo back Dopo lo stack di Raric shield Quindi prendiamo questo Prendiamo le anime qua E poi andiamo back Metto qua A ricolare Per prendere exp Ok Andiamo back Allora Raric shield Pozioni Sì Non abbiamo soldi Per le sites Però buono così Mid È morto No Ho usato flash Sì ho usato flash Potevo usare Semplicemente il barrier Però Che è morto Da loro Ecco Buono Buono Ah io ricollerò Semplicemente Quando avrò 800 di gold Abbiamo 800 di gold Però Ora non possiamo Permetterci di Underback Quindi Ci rimetteremo A wardare qua E Ok Ok Got BFF K Ok Pink tolta Un piano Siamo Qua Boom They got grab The god grab Ragazzi Hashtag senza Ho preso proprio Al limite Del range Mmm Solo Haki Quanta fortuna Hanno avuto Questi C'è più che l'altro Karma Ok Scusa Scusami Tanto Dove Mid Mid Mi ha fatto la torre Buono La torre Mid a 12 minuti Non è male Non è veramente Bad Ok Poppy Sta diventando Grossa Un 2-0 Poppy È Ok Cioè Non si butta Già giù Giusto con l'item Della Sunfire Già Se arriva Dania Possiamo Andarci Ok Ezra è morto Potremmo andare ad invadere Andiamo a divare Karma Se c'è ancora Ok Ok Ci prendiamo la torre Eh Fai che arma Eh Quei carai Sì È bravo Sì Sì Che sta facendo Sta poppy Che sta facendo Sta poppy Ce l'ha fatta Guarda lui Eccolo lì Si sapeva Si vede che sto gara che sarebbe bravo Però anche noi Mamma mia Ah È No Karma È giusto Mettere Award qua Piuttosto che salvarsi Giusto Ma c'è Garen lì Ok Benissimo Volevo fare flash Ma hanno interrotto col tornado Ma abbiamo fatto uno per uno O due per uno Usa la ulti Trissana Ah non ce l'ha No Ci siamo salvati Ragaren probabilmente Killerà Ok Perfetto Può continuare Può continuare Può continuare Però buono Support per tre Non mi lamento Adesso noi ci prenderemo La T2 Bot E forse anche la T3 Se tutto va bene Oh no Garen è quel champ lì ragazzi Garen è così Adesso si prenderà anche la T2 top Probabilmente Probabilmente si Boom Inhibitor E si va A comandare E si va a comandare Mettiamo una world così Perché ci piace Perché è divertente Arriviamo Arriva anche Poppy Lì Garen è mortale Poppy che cavolo Di strada Fatta Che strada Abbiamo fatto Poppy Non si sa Facciamoci Bar Ok Bar un fatto Adesso 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 Non so cosa fare Pusciamo top Dai Se ne andiamo a guardargli un po' deep La giungla Così capiamo tutti i loro movimenti Group top All Lì Eh Bar Poppy Vabbè Basta Io vado Io Metto una ultima Così a caso Sì Terza Inhibitor top Poi ci rendiamo a riprendere quello bot Anzi Lo prendono loro I mini Ma direi di aver Proprio finito sto game Boom ragazzi Vittoria Giusto così Adesso andremo a vedere i danni E poi chiuderemo il video Ok Eccoci qua Allora Abbiamo preso B+, Sì In effetti Non abbiamo fatto un gran partitone Anivia Ci ha carriato Garen È il solito Champ Scrauso E Tristana L'abbiamo fatta fidare un po' in bot Dai Tutto sommato Non è andata malissimo Poppy ha giocato bene E il loro team Io mi sentirei di onorare Gragas Perché comunque ha fatto Una bella partita Gragas Li stava carriando fino a un certo punto E niente Qui dai Vions HD Specialmente da Manu E tutto Vi ringrazio Per la visione del video Bella Grazie per la visione del video